Maestra, vostra figlia, ditemi dov'è. Lasciateci. Voglio sapere dov'è. Quale delle due? Quale delle due? Vostra grazia. Anne! Vostra grazia. Avete ricevuto i miei doni? Sì. Dunque, non li avete graditi? Al contrario, mio signore, li ho molto graditi. E allora perché mi avete offeso rifiutandoli? Perché voi mi avete offeso mandandomeli. Mia sorella è in un letto con vostro figlio in grembo. Se volete compiacermi, mandate a lei i doni che avete mandato a me. Le ho già mostrato sufficiente creanza e generosità. Ora desidero mostrarne a voi. Vi prego, mio signore, vi prego di non farlo. Ditelo, cosa è cambiato? Voi, voi siete cambiata. Non posso dimenticare. Avete scelto Mary il giorno del nostro incontro. No, Anne, è il vostro follo l'unico volto che notai quel giorno. Cosa non darei per tornare a quel giorno, mio signore? E avere un'altra possibilità. Ma ora è tardi. Non potrei mai tradire mia sorella. Perciò vi supplico, lasciatemi. Non sono in grado di sopportarlo. Vedete? È il mio stesso struggimento. I vostri sentimenti sono i miei. Può darsi, ma dal momento che non accadrà... Lasciate che sia io a deciderlo. Lasciatemi sperare. Andate. Lasciatemi sperare.